Buonasera, grazie della vostra partecipazione a questo secondo webinar del ciclo percorsi di didattica della matematica organizzato da Mondador Education in collaborazione con la rivista Archimede. Oggi è con noi il professor Fabio Brunelli che ci parlerà delle prove invalsi. Prima di presentarlo brevemente e dargli la parola vi do alcune note tecniche. Intanto sul prossimo incontro di questo ciclo che si terrà il 6 marzo interverrà il professor Davide Passaro e parlerà dell'intelligenza artificiale a scuola in particolare nella didattica della matematica. Ci saranno poi anche altri eventi successivi che potrete scoprire guardando la pagina del sito per essere aggiornati su tutti gli eventi. Alcune note tecniche invece sull'attestato di partecipazione. Seguendo questo webinar potrete scaricare nei prossimi giorni l'attestato dalla pagina attestati del sito mondadorieducation.it. Anche chi non sta seguendo ora il webinar ma lo seguirà entro le 23.59 di oggi accedendo con la mail con cui è effettuato l'iscrizione potrà comunque scaricare l'attestato sempre dalla stessa pagina. Saranno accessibili anche le slide che il professor Brunelli proietterà utilizzerà nell'intervento di oggi. Durante la diretta sarà possibile porre delle domande, scrivetele pure nella chat di YouTube, le raccoglieremo e poi le porremo alla fine al professor Brunelli. Il webinar viene registrato e quindi rimarrà poi comunque disponibile anche nel periodo successivo sempre sul canale YouTube di Mondadorieducation. Ecco ora vi introduco brevemente il professor Brunelli e poi vi lascio la parola. Fabio Brunelli è un docente ora in pensione di matematica e scienze nella scuola secondaria di primo grado ma si è sempre interessato molto alla didattica della matematica e in particolare è stato ed è ancora formatore per vari corsi docenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Io ora lascio la parola a Fabio che ci parlerà appunto delle prove in balsi. Se le conosci non le eviti. Grazie, grazie Elena. Io ringrazio Elena e ringrazio i colleghi di Mondadori che mi danno la possibilità di parlare di questi argomenti che sono appassionanti per me, sono sempre stati appassionati, lo sono ancora adesso che non insegno più. Dico subito che questo argomento è molto vasto e meriterebbe moltissime ore. Ci sono dei corsi fatti proprio da Invalsi a Roma che infatti è in presenza non so di 20 ore ecco quindi noi adesso abbiamo 45 minuti quindi faremo proprio una specie di super sintesi. Ecco io mi sono dato questa scaletta in una prima parte parlerò di aspetti generali ecco questi potrebbero anche interessare colleghi di altre discipline non di matematica quindi di lettere che so io. Poi invece la parte centrale proprio leggeremo delle prove, delle prove di matematica e poi alla fine parleremo un po' della restituzione di queste prove alle scuole fatte da Invalsi e anche il loro utilizzo proprio in classe. Vi farò vedere un esempio. Allora vediamo un po' questa parte introduttiva. Intanto uno potrebbe dire perché siamo qui a parlare di Invalsi? Ecco di chi è la colpa? Di chi è la colpa di Invalsi? Io stavo in sala insegnante e per tanti anni ho sentito cose tremende contro i vari ministri che si sono alternati. Pensate che noi in 20 anni abbiamo avuto 10 ministri della pubblica istruzione e quindi c'era sempre un ministro bersagliato, un politico responsabile. In realtà le prove Invalsi nascono un po' dal concetto di qualità, di controllo della qualità e questo concetto che c'è sempre un po' stato nella storia viene sviluppato nel Novecento. Nel Novecento sono forse i giapponesi dopo la seconda guerra mondiale, infatti si parla di qualità Toyota, se voi cercate in Inter e qualità Toyota, oppure ci sono addirittura dei corsi di laurea che hanno degli esami sulla qualità, specialmente ingegneri. E questa qualità si è sviluppata naturalmente nel mondo dell'industria, poi è passata all'amministrazione ed è approdata al mondo della scuola anche. Uno degli obiettivi dell'agenda ONU del 2030 è proprio la qualità dell'istruzione, l'obiettivo numero quattro. Quindi è un po' figlia della modernità. Ecco, nell'ultimo decennio del Novecento si sono organizzate tantissime prove, pensate, sono tutte prove di valutazione scolastica esterna, sono prove standardizzate. Le più famose sono Ox e Pisa, perché ogni tanto i giornali parlano, dicono, ah ecco l'Ox e Pisa dice che gli studenti italiani, così non sanno leggere. Queste Ox e Pisa per esempio sono fatte ai quindicenni, sono fatte a campione agli studenti di quindici anni di tutti i paesi dell'Ox, che sono una settantina. E poi ce ne sono molte altre, si potrebbero fare una conferenza per ognuna di queste prove, gli esperti potrebbero parlare, ma non un'ora, ben più di un'ora di ognuna di queste. L'Invals invece, nostro, italiano, nasce come figlio del CEDE. Il CEDE, pensate, il CEDE era un centro europeo per l'educazione, per studiare proprio i problemi dell'educazione, anche in collaborazione con altri centri europei. Quindi aveva già una vocazione un po' internazionale. Nel 74, pensate, io ero già laureato e voi non eravate nati. E da questo CEDE, ecco, poi si è pensato di trasformarlo in Invalsi. Quindi Invalsi naturalmente è cresciuto molto, però a Invalsi c'è sempre una biblioteca, c'è sempre dei convegni, tipo scientifico. Cioè l'Invalsi è un po' un istituto universitario, non è soltanto un ente che produce prove e le propina alle scuole. Ecco, è interessante tenere questa origine. E ormai sono, dal 2006, ormai sono 20 anni, ecco, 20 anni. E l'Invalsi non ha goduto di una buona fama nelle scuole, nelle salle insegnanti. Io sentivo sentivo così delle cose molto poco riferibili. Allora, come mai? Ecco, io mi sono chiesto come mai c'è questa avversione? E allora mi sono inventato questa metafora, la metafora dell'Asla che mette un cartello e dice in questo condominio sabato mattina gratuitamente controlleremo tutti colesterolo o glicemia, perché abbiamo avuto un finanziamento per fare questa cosa. Ecco, io conosco i miei condomini, sicuramente uno dirà, ah no, ma io me lo controllo da me. Ah no, ma io come proprio sabato io non ci sono. Ah no, ma chi sono questi? Magari qualcuno dice, no, ma usano i nostri dati. Ecco, questi complottisti sempre usano i nostri dati per venderli alle case farmaceutiche. Insomma, non ci sarebbe una grande collaborazione senza rendersi conto che in realtà l'Asla fa questo perché ci vuole bene, vuole allungarci la vita. Poi questa cosa la useremo ancora, questa metafora, quando parleremo del cheating alla fine della restituzione delle prove. L'Invalsi scrive tante cose, scrive, allora oltre ai fascicoli ovviamente dei quesiti, l'Invalsi scrive dei quadri di riferimento, oggi noi non li leggeremo, però sono documenti importanti per capire che tipo di matematica per esempio l'Invalsi propone. E poi scrive una guida alla lettura dei risultati, anche che è un documento interessante. Noi non leggeremo queste per mancanza di tempo, però faremo riferimento via via che leggeremo le prove. Ecco qua, ecco qua. Io ricordo che le prove vengono fatte in seconda primaria, che si chiama grado 2, in classe quinta, grado 5, vedete c'è un lessico, un glossario proprio in Valsi. Classe terza, ora queste classe terza erano prima cartacee, come quelle della primaria, ora da qualche anno sono al computer GBT. E poi classe seconda e quinta. Ecco, e allora qualcuno dice anche, ma quante prove, ah ecco poveri bambini, così. Allora io ho calcolato che i nostri ragazzi stanno a scuola per, non so, 13 anni, dalla prima primaria al diploma, e in questi 13 anni fanno migliaia di ore di scuola, più di 10.000. Ecco, le ore in cui loro sono seduti a rispondere a queste prove in Valsi sono 5, 5 ore. Quindi è meno dello 0,01%. Ecco, questo intanto per, come dire, per dare dei punti di riferimento. Questo è, ecco, nel quadro di riferimento a cui accennavo, ci sono ben definiti, eh, per esempio gli ambiti, cioè, eh, che l'Invalsi fa domande in ambito numeri, sarebbe la vecchia aritmetica, spazio e figure, sarebbe la geometria, relazioni e funzioni. Ecco, questo è, è un nucleo nuovo della, della matematica che è un po' trasversale, ecco, faremo poi degli esempi. E infine dati e previsioni, che sono la statistica e il calcolo delle probabilità. Pensate che, eh, questi ultimi argomenti sono stati introdotti nel 79, nel 1979 nella scuola media e poi nell'85 nella scuola primaria, ma sono considerati sempre del, degli argomenti un po' nuovi, un po' così, che mettono a disagio. Ecco, allora uno chiede, ma tu fai probabilità? Ma sì, un po' in terza media, perché poi ci sono le prove in Valsi. Cioè, gli argomenti che fanno fatica a entrare e, ehm, e invece sono importanti e l'Invalsi con, con le sue domande ci aiuta, ci, ci incoraggia, ecco, a praticarci, dando anche degli esempi. E, mh, inoltre, oltre a questi ambiti ci sono anche questi processi cognitivi. Ecco, ehm, vedremo, vedremo degli esempi nelle prove. Cioè, eh, in Valsi prova anche a misurare la capacità di argomentare dei, dei ragazzi, di collegare, ecco, collegare argomenti diversi della, della matematica. Cosa che noi, nelle nostre prove di valutazione spesso non, non facciamo. Perché spesso le prove di, di valutazione nostre, i nostri compiti, parlo per me, i miei compiti, spesso si chiedeva, calcola, esegui questa, risolvi l'equazione, calcola l'espressione, eccetera, eccetera. Perché è difficile anche valutare le capacità argomentative. È molto difficile produrre dei, dei quesiti su queste, sulle, capacità argomentative. È difficile anche produrre degli esempi di attività. Noi l'abbiamo visto nel, nel primo webinar di Ruggero Pagnan, eh, in cui c'erano alcuni colleghi che dicevano, ah sì, sono cose molto belle, però mancano degli esempi pratici, come si potrebbe fare alla scuola primaria, a valutare le argomentazioni, a produrre argomentazioni. Ecco, cioè, è un campo, è un campo difficile questo, che poi è quello della, della logica. Ecco, guardiamo questa slide, ecco, qui ci ricorda, eh, ci ricorda delle cose che, che, di cui si parla poco. Cioè, c'è un enorme lavoro per preparare queste prove. Io ricordo addirittura un giornalista che aveva, in un giornalino di questi online della scuola, dice, un oscuro tecnocrate esterno alla scuola, prepara i quesiti, oscuro, tecnocrate. Qui siamo proprio nel complottismo, ecco, nelle fake. Cioè, qui stiamo parlando di duecento autori, io mi ricordo, ho fatto parte, eravamo cento per la matematica, cento per l'italiano, ancora non c'era l'inglese, ma autori che sono tutti insegnanti, insegnanti come esperti, tra virgolette. Quindi, questo è tutto lavoro di preparazione. Queste domande poi vengono testate, cioè, vengono date a classi campioni per vedere se funzionano. Non devono essere né troppo facili, né troppo difficili, devono essere comprensibili. Per esempio, una domanda molto carina, molto bella, ah, ecco, l'abbiamo scritta noi, siamo innamorati della nostra domanda, lo facciamo, questo quesito, vediamo che metà dei ragazzi scadenti rispondono bene e metà male. Metà di quelli bravi rispondono bene e metà male. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la gente risponde a caso, vuol dire che la domanda in qualche modo non funziona, non legge niente. Allora la domanda viene scartata. Pensate che rispetto alle domande che vengono prodotte dagli autori, solo un terzo alla fine finiscono di andare proprio nelle scuole. Quindi c'è un lavoro enorme e questo lavoro enorme di preparazione dei quesiti dura anche due anni, pensate. Due anni. Un altro aspetto qui che io ho riassunto in questa slide sono i tipi di quesiti, perché sempre il solito giornalista cattivo diceva ecco le crocette, le crocette, i test con le crocette, ma quando mai? Allora, risposta chiusa, a scelta multipla, d'accordo, ci sono le crocette, una risposta è giusta e tre sbagliata. Poi però c'è anche la scelta multipla complessa, cioè qual è il valore di verità di queste frasi? Faremo degli esempi. Poi c'è la risposta aperta, cioè quant'è l'area di questa figura? Quant'è il risultato di questa operazione? Eccetera, eccetera. E poi anche articolata, cioè in cui l'alunno deve scrivere, deve giustificare. E poi anche altre dove uno collega, scegli la, collega con una freccia la frase giusta, al posto giusto. Quindi le domande sono di molte tipologie e la correzione di queste domande non avviene in maniera automatica, come qualcuno pensa. Ecco, soltanto quella risposta multipla eventualmente, ma le altre invece c'è tutta della gente che lavora alla primaria, sono gli insegnanti della primaria stessa, che leggono i fascicoli e quindi devono valutare la correttezza dell'argomentazione. Invece nelle prove al computer a Roma c'è gente che lavora a questo. Quindi c'è un lavoro enorme sia di preparazione e sia poi di correzione, di valutazione di queste prove. Un altro aspetto interessante, su cui meriterebbe fare forse qualche tesi di laurea, scrivo un articolo, cioè confrontare i vecchi fascicoli invalsi del 2008-2009 con quelli del 2018 o quelli del 2024, per vedere l'evoluzione di queste domande. Io ho l'impressione che all'inizio l'invalsi si è partita molto con risposte multiple, ecco, e poi dopo via via si sia diversificato perché sempre di più diventava importante valutare le capacità argomentative. Quindi sarebbe interessante fare un lavoro di questo tipo. Ecco, siamo arrivati nel cuore del nostro webinar perché adesso noi cominciamo a parlare dei quesiti. Ecco, e cominciamo dalla classe seconda della primaria, del grado 2. Cominciamo quindi da cose abbastanza facili. Guardiamo la struttura di un fascicolo. Intanto qui osserviamo che ci sono domande e poi item. Praticamente sarebbero le risposte da dare. A volte c'è una domanda un po' più complessa dove c'è una prima risposta da dare e una seconda. A e B. Quindi il numero di item è sempre maggiore del numero delle domande. E poi gli ambiti. Ecco, numeri 12, spazio e figure 8, date e previsioni 6. Ecco, numeri è vero che hanno un po' più spazio, però io mi chiedo, nelle ore dedicate alla matematica della scuola primaria. Ecco, su 12 ore dedicate ai numeri, ce ne saranno 8 dedicate alla geometria, ce ne saranno 6 dedicate date e previsioni. Ecco, vi lascio a voi riflettere su questi numeri. Ecco, e poi oltre a questa classificazione per ambito, quindi aritmetica, geometria, date e previsioni, abbiamo queste dimensioni. La dimensione del conoscere, che è sempre quella che si misura a scuola, 7 per 8, quanto fa? Ecco, questo è il conoscere. La dimensione del risolvere problemi, ecco, questo invece è un punto molto delicato, è il problem solving, che spesso a scuola, diciamo, viene un po' bistrattato. Pensate che alla primaria ci sono delle pagine dove c'è scritto risolvi questi problemi con l'addizione, con l'addizione. E poi c'è un testo, 5, 6, e finisce. Allora, il bambino dice, devo risolvere con l'addizione, lì c'è un testo dove c'è un 5 e un 6, prendo il 5, prendo il 6, lì sommo e rispondo. Addirittura sotto, in alcuni libri, c'è scritto puntini puntini più puntini puntini uguale. Quindi il bambino deve mettere al posto dei puntini i due numeri che ci sono nel testo. Ecco, questo non è un problema, non è risolvere problemi. Questo è un esercizio bruttino sull'addizione, che anzi è diseducativo, perché il bambino vedendo un testo incomprensibile oppure comprensibile, ma lui per pigrizia non lo legge, vedendo due numeri, li mette, li somma, risolve, il risultato è quello di previsto, basta. Quindi non si allena per niente alla comprensione di un testo e alla risoluzione di un problema. Il problema è quando c'è qualcosa che noi non sappiamo fare, che lo guardiamo e dice, oddio, ma questo cos'è? Devo sommarlo, devo sottrarre. Ecco, quello è il vero problema. E noi nella scuola italiana dobbiamo un po' recuperare in questo settore. E infine vediamo questo argomentare, che abbiamo detto che è una cosa nuova, è un po' difficile e vediamo che ci sono alcuni quesiti però dedicate all'argomentare, anche ne in questo livello 2, che è seconda classe della scuola primaria. Ecco il primo quesito che io ho scelto, questo è del 2021, va bene, è del 2021, la domanda 10. Osserva la figura, e c'è una figura strana, perché è un quadrato però è messo storto. Ecco, nella scuola italiana i quadrati non sono mai messi storti, sono sempre dritti, sono sempre dritti e si dice in posizione standard, ecco, in posizione stereotipata. Sono talmente standard che se un quadrato lo mettiamo storto, l'alunno dice ma non è un quadrato, boh, non lo so, al massimo dirà che è un rombo, ecco, però non lo riconosce come quadrato. E quindi invece qui l'invalsi cattivo ci mette un quadrato un po' storto. E poi ci chiede quanti triangoli ci sono nella figura? Una domanda assolutamente, assolutamente semplice, assolutamente banale. Quanti sono i triangoli che ci sono nella figura? E il triangolo è una figura che i bambini conoscono dalla scuola dell'infanzia. A volte lo chiamano tetto, a volte lo chiamano punta, ma insomma i triangoli ci sono nella loro esperienza. E purtroppo quando arrivano a scuola il triangolo diventa subito qualcosa di ingessato, qualcosa di imbalsamato, perché viene messo bene, come il quadrato che abbiamo visto prima, viene appoggiato su questo lato, con la punta in alto, per cui se voi proponete un triangolo a punta in giù, a volte il bambino rimane un po' disorientato e a volte non lo riconosce come triangolo. Questo è già, voi vedete, stiamo facendo didattica della matematica in questo momento, a partire dai quesiti invalsi. Cioè i quesiti invalsi dovrebbero mettere un po' in crisi proprio l'impostazione epistemologica, ecco, della didattica della scuola, delle prassi didattiche scolastiche, delle prassi consolidate. Ecco, e questa domanda, vedete c'è ogni domanda, ha una specie di scheda, di carta d'identità, io la chiamo, dove ci dice che questo ambito è spazio figure, va bene, e poi lo scopo della domanda è di individuare triangoli e poi dopo ci sono i riferimenti alle indicazioni nazionali, sempre. Ogni domanda, ogni quesito invalsi ha un riferimento alle indicazioni nazionali. Questa è una cosa molto importante perché, per esempio, io faccio parte di commissioni che si occupano di gare matematiche, nelle gare di matematica noi possiamo chiedere qualunque cosa ai ragazzi, perché anzi degli argomenti strani, un po' sfidanti, che vanno a stimolare, come dire, il pensiero laterale degli alunni benvengano, ecco, nelle gare. Nell'invalsi no, invece. I quesiti invalsi devono essere tutti ancorati alle indicazioni nazionali, che sono, come dire, la normativa, ecco, la normativa di oggi. Ecco, pensate che questa domanda è stata risolta da poco più della metà degli alunni, quindi voi vedete come è risultato in qualche modo relativamente difficile. Ecco, qui c'è un'altra domanda sempre della classe seconda, della scuola primaria. Questa è una scelta perché, vedete, è una domanda dove ci sono dei numeri e gli alunni a volte dicono, ah, c'è due, quattro. Allora, i dati numerici del testo del problema e poi applicare su questi dati un'operazione. E allora qui dice mettere, ma mettere ci vorrà l'addizione. Ecco, due più quattro. Allora c'è un alunno che fa sei, scrive sei. Ecco, qui io dico sarebbe molto interessante andare a vedere i fascicoli cartacei che sono conservati nelle scuole, sono gelosamente gelosamente tombati negli archivi delle scuole. Io l'ho fatto in qualche caso, non senza difficoltà, perché c'è una scuola italiana, non si sa perché, come dire, è gelosa di queste mummie che vengono murate così nei sottosuoli. Invece è una miniera, è una miniera, perché noi andiamo a vedere tutte le cose che i bambini hanno scritto, hanno scritto su questa domanda. E quindi vediamo anche gli errori, gli errori più ricorrenti, come mai? Ecco. E poi si potrebbe anche prendere questi quesiti e ridarli, e ridarli agli alunni della classe seconda, della primaria, ma anche della classe terza o della classe prima, magari leggendoglielo il quesito. Quindi sto andando alla parte terza del nostro webinar, cioè utilizzarli questi quesiti, utilizzarli, magari cambiandoli, manipolandoli. Ecco, sono stimolanti. Ecco, e questa domanda, oltre che sia una domanda che ha a che fare con l'aritmetica, direi che ha a che fare con le relazioni, perché noi dobbiamo sapere come mai c'è questo equilibrio tra una pallina nera e palline bianche. Le nere sono due e le bianche sono quattro, quindi chiaramente per noi adulti è evidente che la pallina nera pesa come due bianche. Ecco, però per i ragazzi non è così evidente. E poi questa bilancia per me è suggestiva, perché questa bilancia in fondo è il segno uguale, il segno uguale che a volte viene un po' bistrattato nella scuola e che è l'uguale poi che c'è nell'equazione, dove noi abbiamo due primo e secondo membro, dobbiamo fare delle manipolazioni, però sempre conservando questa uguaglianza. Quindi direi che è un po' prealgebrica questo quesito. E anche questo, pensate, risultato difficile, perché abbiamo questa percentuale di 37 e 8 di risposte corrette. Vedete l'ambito prevalente ai numeri, però secondo me ha a che fare anche con le relazioni. E questa domanda è ancorata alle indicazioni, perché nell'indicazione c'è scritto riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo sia sui risultati. Ecco, il controllo sui risultati vuol dire che se io devo, ho un problema di ordinare le pizze, non può venirmi un miliardo e qualche cosa di pizze, non ha senso. E nemmeno il conto da pagare, pizzeria, un miliardo e qualche cosa. Cioè questo nei nostri alunni è un po' carente. Cioè noi, le prove, questo lo dicono non solo i balsi, ma anche le prove Oxley 15 anni, i nostri alunni sono magari abbastanza bravi a risolvere un'equazione, a calcolare un'espressione, però sulla parte l'esistenza, cioè quale equazione risolve il mio problema e sulla conclusione, cioè interpretiamo la soluzione ottenuta dall'equazione alla luce del problema, ecco, in queste due fasi, iniziale e terminale, i nostri allievi hanno difficoltà. Ecco, ora passiamo alla classe terza. Ecco, anche qui vediamo la complessità di queste domande, ecco, questa è la scheda di un fascicolo, vediamo, sono 30 domande con 50 item, vedete, molto più numerosi gli item. E poi vediamo i numeri, spazio, figure, dati e previsioni e qui abbiamo relazioni e funzioni, che nei livelli precedenti non erano così esplicitamente dichiarati, però c'erano. E poi queste dimensioni, conoscere, risolvere problemi, argomentare. Poi vedete come i vari quesiti sono tutti, come dire, distribuiti e c'è una preoccupazione di riempire un po' tutte quelle caselle, cioè dobbiamo dare problemi in ambito numeri, in ambito figure, in ambito dati e previsioni, un po' di tutto, ecco. Vediamo, vediamo, ecco, questa è una prima domanda di geometria, ecco, del 2016, che a me piace molto questa domanda, ecco, proviamo a leggerla. Osserva la figura, AC è il diametro di una circonferenza di centro O. Quindi vedete, c'è la figura, c'è il centro O, c'è il diametro e lui dice, osserva però anche gliela spiega. Nel triangolo AOB, c'è il triangolo disegnato, l'angolo BAO è uguale all'angolo OBA. Vedete, sono due angoli uguali e ci sono anche i cerchietti per aiutare a trovarli, ecco. Immagina, ecco, qui comincia la parte interessante. Immagina di muovere il punto B sulla circonferenza. Ecco, questo movimento del punto B sulla circonferenza e domanda, gli angoli BAO e AOB sono ancora uguali tra di loro? Ecco, questa domanda è interessante perché noi vediamo spesso in geometria, calcola il perimetro, calcola l'area, trova l'ipotenusa, l'altorema di Pitagora, c'è sempre da fare dei conti, ecco qui non c'è da fare dei conti, c'è da osservare, da osservare la figura e da immaginare, osservare e immaginare, non c'è da calcolare. Anche qui noi abbiamo un'indicazione didattica per gli insegnanti di matematica, ma voi fate osservare e fate immaginare i vostri alunni oppure fate fare dei conti, conti di aree, di perimetri e di teoremi di Pitagora. Ecco, qualcuno potrebbe dire, ah ecco qui c'è un trascinamento, ah ecco questa è una cosa moderna, ci vuole GeoGebra per farla. Allora, ma chi trascinava, chi muoveva era Emma Castelnuovo che ha cominciato le sue attività nel secondo dopoguerra, quindi siamo negli anni 50, ecco lei naturalmente non aveva GeoGebra, aveva gli elastici, le cordicelle, gli spaghi e quindi questa geometria dinamica, diciamo, nasce forse con Emma e poi dopo 50 anni è arrivato a GeoGebra perché lo possiamo fare senza elastici. Però è importante, è importante perché, come diceva Emma, gli alunni sono incuriositi, interessati dalle figure che si muovono e dalle proprietà che si conservano e che invece non si conservano. Ecco, allora qui in fondo sta chiedendo se c'è questa proprietà che si conserva o no. Sono uguali tra loro? Sì perché? Vedete, l'alunno deve scrivere lì, no perché? Quindi l'alunno deve argomentare, quindi noi siamo ben lontani dal mondo delle crocette e siamo vicini proprio al mondo dell'argomentazione. Ecco, uno potrebbe dire di sì e poi dare invece una giustificazione che non va bene. Vedete, quindi siamo proprio nel... sarebbe contento Ruggero Pagnan di questa domanda perché non basta dire di sì la risposta giusta, bisogna dire anche il perché, il perché è giusto. Ora lì la chiave di tutto è che quei due lati A, O e O, B sono raggi della circonferenza e si mantengono raggi della circonferenza. E quindi qui abbiamo la scheda, vedete la dimensione argomentare, squisitamente argomentare e qui poi alla fine c'è proprio una parte che spiega addirittura gli errori perché prima avevamo detto che queste prove non sono state tutte testate, validate. Quindi chi propone la domanda sa già come gli alunni potrebbero sbagliare e gli spiega come potrebbero sbagliare gli alunni e perché. Quindi questa è una domanda che tra l'altro per rispondere a questa domanda si potrebbe dare, non so, in quinta primaria, in teoria. Ecco, questa qui io l'ho presa dal sito Jestim, di cui poi dirò. E questo sito è un sito che ci dà le percentuali di risposte corrette, sbagliate. E poi ci dà questi simpatici aerogrammi che ci danno subito la misura. Pensate qui, le risposte mancate sono il 16,8%. Quando le risposte mancate sono a due cifre vuol dire che l'alunno rimane come bloccato. Dice, oddio cosa mi stai chiedendo, oddio questa cosa non l'ho mai vista, nessuno me l'ha mai spiegato, non l'abbiamo mai fatto. E quindi è anche indicativo, questo 16 è molto alto di risposte mancate. Ci fa riflettere su come, dopo aver fatto migliaia di esercizi sui triangoli, sulle circonferenze, l'alunno rimane bloccato davanti a questa domanda. Ecco un altro esempio, questo fa parte del gruppo, questa è una domanda recente del 23, quindi fa parte delle domande rilasciate, perché anche se i quesiti al CBT, forse non l'ho detto, non sono cartacei e quindi rimangono come dire, il database degli invalsi non sono noti, sono riservati, perché chiaramente l'invalsi lì deve trasformare e riproporre nel tempo, alcuni vengono rilasciati. Questo è un esempio di domanda rilasciata del 2023. Il successivo di un numero naturale A è sempre minore del doppio di A? Questa è una domanda di ambito numeri, però è anche un po' algebrica, perché non chiediamo se il successivo del numero 5 è sempre minore del doppio di 5, ma diciamo un numero lo indichiamo con A, con una lettera. Pensate, questi sono ragazzi di terza media che hanno fatto equazioni, magari hanno fatto anche espressioni letterali, purtroppo anche prodotti notevoli e company. Nella tabella che segue indica la sola argomentazione che giustifica la risposta corretta. Siamo di nuovo nella logica, perché dobbiamo rispondere sì o no, ma dobbiamo anche scegliere l'argomentazione corretta. E quindi è molto delicato, anche perché i distrattori sarebbero le risposte sbagliate, le risposte sbagliate sono fabbricate mettendo delle frasi che sono vere. Per esempio, la risposta sarebbe sì perché il successivo di A si ottiene aggiungendo 1. E questo è vero che il successivo di A si ottiene aggiungendo 1. E il doppio di A si ottiene moltiplicando A per 2. Questo è ancora vero, però sono cose vere che però non giustificano il sì. E la stessa anche nella risposta B. Se A è uguale a 3, il successivo di A è minore del doppio di A. Questo è interessante perché questo potrebbe essere un esempio che un alunno potrebbe addurre per dimostrare quella proporzione. Quindi qui siamo proprio nella logica. Come si fa a dimostrare che una cosa è vera? Se io dico sì, se A è uguale a 3 è vera, se A è uguale a 4 è vera, se A è uguale a 5 è vera, perché il successivo di 5 è 6, che è minore di 10, che è il doppio di 5, quindi è vera. Quindi questa cosa è vera. Provo anche con mille, è vera. Un milione è vera. Ah, quindi è vera. Basta. Il teorema è dimostrato. No. Sbagliato. Falso. Perché? Perché per dimostrare che una cosa è vera in matematica bisogna dimostrare che è vera per tutti, per tutti i numeri. In questo caso è falsa. È falsa. Come si fa a dimostrare che una cosa è falsa in matematica? Basta far vedere che non vale in un caso, in un solo caso. Infatti la risposta corretta è che D dice che no, non è vera la argomentazione, non è vero. Perché? Perché se A è uguale a 1, il successivo di A è uguale al doppio di A. Il successivo di 1 è 2, il doppio di 1 è 2, quindi non è sempre minore. C'è un solo caso in cui non vale e quindi crolla. Vedete, quindi qui siamo nell'ambito numerico, però siamo anche nell'ambito algebrico e siamo soprattutto, secondo me, nell'ambito logico delle argomentazioni. Infatti qui nella scheda loro ammettono che il livello di difficoltà è il livello alto, cioè è difficile, è difficile l'argomentare. Nelle indicazioni, nei traguardi, è previsto proprio che l'alunno produca argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite. Ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzanti e di definizione. Perché qualcuno ogni tanto dice oddio, ma che cose strane che chiede Invalsi? No, chiede delle cose che sono previste dalle indicazioni. Purtroppo il tempo è tiranno, come sempre. Noi dobbiamo velocemente arrivare la terza parte. Ecco, mi fermo su questa domanda di geometria e io sono appassionato di geometria dove c'è una figura strana. Prima avevamo visto in seconda primaria che c'era un quadrato un po' piegato e chiedeva di contare i triangoli. Qui invece, guardate, l'immagine mostra tre quadrati, un triangolo rettangolo, un arco di circonferenza di centro C e raggio congruente al lato dei quadrati bianchi. E poi c'è una parte grigia. Vedete, il quadrato grande ha una parte grigia e una parte bianca. Un cateto del triangolo rettangolo è lungo 4 metri. Cioè lui praticamente lo aiuta a leggere l'immagine, gli spiega come è fatta l'immagine. Per esempio uno potrebbe dire, togliere quel testo, dare questa figura agli alunni e dire descrivila. Descrivila e descrivi tutte le figure geometriche che vedi in questa figura. Vedete, siamo già nella terza parte. Tema, tema di italiano. Cosa vedi in questa figura? Ecco. La domanda invece qui chiede, completa la seguente frase, scegliendo tra le alternative proposte il lato del quadrato ABCD, quello grande, quello quasi tutto grigio, alla stessa lunghezza di chi? Alla stessa lunghezza di A, B o C, dell'ipotenusa del triangolo rettangolo. Il triangolo rettangolo lo vediamo, c'è anche proprio l'angolo retto che è segnato, del cateto maggiore del triangolo rettangolo, oppure del diametro del cerchio. Ora del cateto maggiore c'è anche la misura 4, 4 metri, si vede benissimo anche a occhio che non è. Il diametro del cerchio, men che meno, perché noi vediamo che questo raggio del cerchio è un po' più del lato del quadrato, quindi il diametro sarà sicuramente maggiore. Quindi direi che qui c'è questa risposta A, che è quella giusta, ed è una risposta abbastanza facile da dare. I dolori arrivano nella risposta, l'area B. Qual è l'area della parte grigia della figura? Ecco, io non vi confesso che anche io sono rimasto bloccato per alcuni minuti, perché io avevo letto in maniera superficiale e quindi volevo calcolare l'area di tutto il quadrato grande, ecco, di tutto il quadrato grande e chiaramente non si sa. Invece poi dopo ho riflettuto che chiede solo l'area della parte grigia della figura, quindi noi dobbiamo togliere quella parte bianca e poi scrivi come hai fatto per trovare la risposta, riporta sotto il risultato. Quindi qui è una risposta aperta, argomentata, questo è un bellissimo problema di geometria. E pensate che per risolverlo basta conoscere il teorema di Pitagora, quindi voi domani mattina in classe potete darlo anche ai vostri alunni di seconda media che hanno fatto Pitagora ed è evidente che questo quadrato grande è il quadrato costruito sull'ipotenusa e noi sappiamo che è uguale alla somma dei quadrati costruiti sui cateti. Siccome dal quadrato grande togliamo quel quadrato bianco piccolo che è quello costruito sul cateto minore, quello che rimane è l'area del quadrato costruito sul cateto maggiore che è 16 perché è 4 al quadrato. Quindi quando è risolto poi è facile, ho tutti i problemi, però prima di risolverlo bisogna entrare. È molto interessante anche che qui c'è un solo numero per cui mi ricordo qualche alunno dice subito ma non ci sono abbastanza dati nella figura perché sono abituati appunto alla famosa imprinting del problema che deve avere almeno due numeri, poi li devo sommare o tre, ma un numero solo come si fa a risolvere un problema che è un numero solo tra i dati non è possibile. Allora noi siamo in pauroso ritardo quindi cerco di recuperare e andiamo nella terza parte, nella terza parte che avevamo detto che avremmo parlato della restituzione, ecco restituzione la prima domanda è a chi vengono dati questi risultati delle prove dei nostri alunni. Qui ci sono delle slide che sono prese dal sito Invalsi Open che poi diremo. il dirigente scolastico ovviamente è la prima persona e poi il referente per la valutazione che è un insegnante che ci dovrebbe essere in ogni scuola che si occupa proprio della valutazione scolastica. Questi sono i due principali referenti di questi dati. Il presidente del consiglio di istituto che è un genitore può accedere ad alcuni dati, alcuni dati non delle singole classi, non dei singoli alunni ma per esempio della scuola per poter avere un'idea di come si colloca alla scuola rispetto per esempio alla regione, all'Italia del nord, del centro eccetera eccetera. E poi anche gli insegnanti delle classi che possono accedere ai dati delle loro classi, per esempio il consiglio di classe nella scuola media oppure gli insegnanti della primaria di una certa classe. Ecco qui c'è una criticità che io voglio dirlo, voglio dirlo, mi sento il dovere di dirlo, di cui secondo me non se ne parla, l'invalsi vede le scuole che leggono i loro risultati e vede anche le scuole purtroppo che non leggono i loro risultati. A me risulta che nel 2023 il 70% delle scuole primarie ha guardato i propri risultati. Ora il 77% è una percentuale alta, però qui abbiamo il 20% che non le guarda, il 20% sono centinaia di scuole, perché stiamo parlando del paese, dell'intero paese. Quella più virtuosa è la scuola media, una volta tanto che è sempre la peggio, il ventremolle della scuola italiana, noi siamo i migliori, però 82 rimane fuori sempre circa il 20%, i pessimi sono quelli superiori, abbiamo migliaia di scuole che non guardano i risultati. Tornando alla metafora dell'ASL che ci controlla la glicemia, sarebbe come se io trovo nella buca delle lettere una busta con l'indirizzo da Fabio Brunelli, le comunichiamo i suoi valori del trigliceri, io prendo la busta, la guardo e poi la metto lì e non la apro. Ecco, non la apro, una busta che mi arriva gratis. Ecco, questa cosa è un po' imbarazzante, ecco, è un po' imbarazzante. Ecco, qui ci sono tanti esempi di dati che vengono restituiti, qui ho cancellato chiaramente le classi, questo me l'ha fornito una collega qui, dirigente di Firenze, è una scuola che ha tanti problemi, perché è una scuola periferica con molti immigrati, con molti problemi e quindi vediamo che ci sono, per esempio, ecco, andiamo a vedere le varie classi, abbiamo una prima classe, ecco, guardiamo gli studenti del livello 5, che sarebbe il livello più alto, abbiamo il 4%, una percentuale un po' bassa di alunni di livello alto, un'altra classe il 4%, poi abbiamo una classe che ha l'8%, poi abbiamo una classe che ha risultati migliori perché il 27% di alunni raggiunge il livello 5 in matematica e noi possiamo confrontare questo 27% con la media della Toscana, che è il 16, quindi questi ragazzi hanno fatto meglio della Toscana e anche delle regioni del centro Italia, che ha il 15 e poi la media nazionale italiana che è del 14, quindi si possono fare tante considerazioni. Non bisogna essere frettolosi però con questi dati, perché la statistica è una materia complessa, ecco, prima di leggere questi dati bisognerebbe, come dire, formarsi un pochettino, perché si rischia di dire, ah sì, lì c'è l'insegnante bravo, lì c'è l'insegnante non bravo, ecco, no, queste sono le cose banali, sono cose banali che vanno evitate. Questo è un esempio sempre di restituzione dove ci sono proprio i nomi degli alunni, quindi vediamo proprio le prestazioni degli alunni che io ovviamente ho cancellato. Qui per esempio, ecco, c'è un dato che viene restituito dei dati aggregati maschi e femmine, quindi per esempio c'è il famoso gender gap in Italia, che le ragazze fanno peggio dei ragazzi in matematica, in Italia, siamo i campioni del mondo di questo gender gap, una cosa imbarazzante, preoccupante. Questa scuola invece, stranamente, è in controtendenza, perché abbiamo il livello 5 delle femmine e il 9 e 6 contro l'8 e 5 dei maschi, quindi qui siamo in controtendenza rispetto all'Italia. Mentre vedete i risultati nazionali, abbiamo in Italia, abbiamo il 16 dei maschi contro il 12 delle femmine, che appunto si conferma questo gender gap su cui bisogna fare un altro webinar. Questo è un altro modo di restituire, così con i colori. Qui per esempio, ecco, loro vanno a fare un incrocio tra italiano e matematica, fanno vedere quelli che sono bravi sia in italiano che in matematica e quelli che sono scarsi in tutte e due e quelli raramente che dovrebbero essere molto bravi in italiano e molto scarsi in matematica. Ovviamente non c'è nessuno, perché queste competenze sono un po' insieme. Spesso abbiamo visto che essere bravi in matematica comincia da leggere e comprendere il testo. Però insomma sono dati interessanti. Qui ce ne sono ancora altri sui nativi, quelli italiani nati in Italia, stranieri di prima e seconda generazione. Ci sono tantissimi, tantissimi dati. Ecco, mi fermo un attimo su questa slide, perché è molto bella, è molto utile. Purtroppo non ci sono più questi dati per le scuole medie e per le scuole secondarie di primo e secondo grado. Ci sono però per la scuola primaria ancora. Una volta c'erano anche per noi delle medie. Cos'è questo grafico? Allora, qui vediamo una riga rossa che sono i risultati dell'Italia, del paese. Quindi i nostri grafici di questa scuola qui sono tutti di una classe, questa è una classe, sono tutti sotto l'Italia. Poi abbiamo una riga, mi sembra di un colore marroncino bordeaux, che sarebbe la scuola, la scuola nostra. Questa è la scuola di prima che dicevo che aveva problemi, che siamo al di sotto. Poi vediamo questi quattro blocchi, quattro colori. Questi quattro, è una cosa interessantissima, sono gli ambiti. Cioè, numeri, geometria, dati, probabilità statistica e relazioni funzioni. Allora, noi vediamo addirittura, vedete che sale e scende, sale e scende a seconda delle domande. Per cui noi abbiamo che, per esempio, vediamo che nell'ambito numeri abbiamo fatto meglio che nell'ambito spazio e figure. Però nell'ambito numeri ci sono delle domande che sono andate molto bene e domande andate male. Allora, noi potremmo andare a vedere nel fascicolo una domanda andata bene e dire come mai hanno risposto così bene? Era facile la domanda oppure forse un argomento che abbiamo sviluppato particolarmente. E lo stesso perché abbiamo risposto così male. Per esempio, nel verde, spazio e figure. Spazio e figure noi abbiamo fatto meglio della scuola in generale, però c'è questa domanda dove noi abbiamo fatto molto male. Ecco, perché quella domanda andiamo a vedere, diciamo ma questo è un argomento che nel libro non c'è. Ah, forse. Oppure, ah, ma questo è un argomento sui... Allora, vedete, qui si potrebbero fare delle interessanti discussioni, anche sperimentazioni. Per esempio, io prenderei un risultato di una quinta primaria, di una collega della primaria con la quale lavoriamo, e poi andrei proprio a sviscerare queste domande, quelle andate bene, male, perché... E le ridarei, le ridarei agli alunni della quinta primaria e agli alunni della prima media, perché sono più o meno dello stesso livello. E quindi è un suggerimento di attività da fare. Ecco, le risorse le troviamo in questi siti, che sono il sito istituzionale dell'Invalsi, quello in alto grigio, un po' così, un po' triste, dico io. Poi invece c'è questo più squillante blu, che è Invalsi Open, che è un altro sito sempre dell'Invalsi, e poi il Gesti, il famoso, dove si trovano tutte le domande. E sono tutti siti gratuiti, ecco, dove noi possiamo prendere esempio. Ecco, ci sono degli esperti, questo Schleicher è l'esperto dell'Ocse, che critica un po' la scuola, ma non la scuola italiana, di tutti i paesi, e dice, poiché siamo incapaci di abbandonare l'insegnamento di argomenti che non hanno più rilevanza, i nostri giovani restano prigionieri del passato. Cioè lui sta criticando le prassi didattiche, cioè lui alla luce dei risultati Invalsi dice, ma qui c'è una scuola che rimane indietro. Rimane indietro rispetto a che cosa? Rispetto alle indicazioni nazionali, alla matematica di oggi. E Domingo, che è un amico, un collega di Genova, anche lui dice necessario il coraggio di abbandonare prassi didattiche che sono care alla tradizione, ma che rischiano sempre di più di assumere il senso di antichi e inutili tabù. Ecco, allora, Elena aveva avuto l'idea di chiedere a voi, ecco, che seguite questo webinar, secondo voi quali sono questi argomenti, questi antichi e inutili tabù? Ci sono degli antichi e inutili tabù nell'insegnamento della matematica, argomenti di matematica non più rilevanti. Ecco, noi vi invitiamo a utilizzare la chat per scrivere, così, di getto. Ecco, secondo voi ci sono nelle nostre prassi didattiche, noi le vediamo nei nostri alunni e nel nostro insegnamento, ma forse le vediamo anche, non so se qualcuno ha figli che vanno a scuola e arrivano a casa con dei compiti improbabili, oppure c'è qualcuno che segue dei ragazzi nelle lezioni private e dice, guardate questo poveretto cosa deve fare per domani, com'è possibile? E ovviamente i colleghi della chat dicono, ah, ma chi è con l'infame che gli dà queste cose da fare per casa? Siamo alla crudeltà mentale. Ecco, nella chat, io non la vedo, però Elena la vede e ora tra poco, tra qualche secondo, ci comincerà a dire qualche vostra ipotesi di lavoro. Ecco, Elena, qualcuno così veloce che già... Quello che ha scritto finora, dunque una docente della primaria dice che eliminerebbe la compravendita, mentre una docente della secondaria di primo grado che eliminerebbe l'algoritmo di estrazione della radice quadrata. Qualcuno parla di numeri periodici? Grazie, grazie. Le batterie di operazioni, si ritrova delle operazioni, l'insiemistica. L'insiemistica. Allora, scusa Elena, un attimo solo, due considerazioni. Pensate che radice quadrata e insiemistica, i programmi della scuola media del 79, i nuovi programmi della scuola media del 1979, pensate in commissione c'era Prodi, ma c'era Emma Castelnuovo, scrivono verso la fine, verso il fondo, e ci sono alcuni argomenti di matematica, lasciate perdere. Lasciate perdere cosa? Algoritmo di estrazione della radice quadrata e gli insiemi. Dici, gli insiemi non sono propedeutici alla matematica. Sì, sono giusti, ma facciamo con i ragazzi più grandi, magari. E quindi, il fatto che ci siano dei colleghi che oggi, nel 2024, scrivono in chat che ci sono questi argomenti da abbandonare, vuol dire che questi argomenti ancora sussistono nella scuola italiana. Sono, come dire, dei ruderi vaganti. Elena, leggi altre cose? Allora, qualcuno parla di problemi con i segmenti, problemi con i segmenti. Doppia entrata per operazioni, poi c'era anche... Scusa, cosa hai detto? No, ho perso la seconda cosa. Sì, le tabelle a doppia entrata per le operazioni. Sì. Poi, operazioni in colonna con il cambio. Ecco, sono più o meno questi gli argomenti. Spero di non averne perso nessuno. Grazie. Io ringrazio molto questi colleghi. Questi problemi dei segmenti sono una prassi della prima media. Io li davo, gli alunni non li capivano, poi mi rassegnavo, poi è arrivato in terza media. Vedete, le equazioni risolvono i problemi della prima media. Ah, va capito. Allora, forse era inutile farli in prima media, se tanto poi li risolviamo in terza. Cose del genere. Quindi, grazie. Grazie molto i colleghi. Abbiamo ancora qualche minuto, Elena? Possiamo... Abbiamo ancora più o meno cinque minuti. Cinque minuti. Per lasciare un attimino di tempo per un paio di domande che sono... Ah, ecco. Allora io mi... Ecco. Ecco, io vi faccio solo questo esempio. Un minuto. Questa è una prova di livello 5 della scuola primaria, il treno della metropolitana. Ecco, questo era dato a risposta multipla, chiusa, bisognava mettere la crocetta sulla risposta giusta. Io l'ho presa e mi sono divertito a darlo in tutte le mie classi. Prima, seconda e terza media. E vi posso garantire che abbiamo avuto abbiamo avuto dei risultati insomma, interessanti. E tra l'altro questo quesito si presta a passare dal problem solving che sarebbe risolvere problemi al problem posing. Cioè uno potrebbe dire ma questo problema voi come lo potreste cambiare? e allora ovviamente viene in mente non so, a me viene in mente che invece di mettere 5 stazioni le potrebbe mettere 6 oppure 7 oppure 8 oppure allungare il tempo di sosta. E quindi si passa dal problem solving al problem posing che è una competenza molto alta e molto interessante. Però gli alunni se come dire se abituati ci sorprenderanno. Quindi io ve lo propongo e vi prometto che i vostri alunni vi sorprenderanno. Elena vogliamo vedere se c'è qualche domanda qualche domanda finale? Sì, allora intanto dunque è stata posta una domanda e vedo che già è stata risposta nella chat ma lo diciamo comunque a tutti e Fabio corregioni se sbaglio dunque i risultati la restituzione di cui tu parlavi si tratta di dati che tutte le scuole ricevono quindi non sono riferite alle grassi campione ma proprio ai risultati delle prove somministrate. a tutte le classi corretto? Sì, sì è corretto allora le classi campioni ci sono diversi tipi di classi campioni ci sono le classi campioni dove vengono testate le prove invalsi prima di darle e quelle sono classi come dire riservate sono classi però che si sono offerte i dirigenti hanno detto noi siamo a disposizione per farvi da da cadi e diciamo per i quesiti dei prossimi anni e quelle sono un campione poi c'è un altro campione che sono delle classi campioni che vengono scelte con dei criteri statistici molto raffinati e dove va proprio un osservatore invalsi per vedere proprio che la prova sia fatta secondo tutti i crismi e questi dati sono quelli dati che vengono utilizzati per sapere delle percentuali corrette e anche questi se li tiene l'invalsi invece i risultati delle prove invalsi che fanno tutti i nostri alunni in maniera censoria vengono restituiti a tutte le scuole a tutti i dirigenti ecco ecco uno dei temi che ha scatenato un dibattito sulla chat e ringrazio i docenti che hanno partecipato sarebbe bello poter fare un dibattito in diretta è un po' sul tema della difficoltà diciamo delle prove legate proprio alla decifrazione del test appunto gli studenti hanno spesso e sempre di più delle difficoltà proprio di lettura e comprensione del test quindi alcuni docenti si chiedevano se la lunghezza dei quesiti proposti nel tempo che viene dato a disposizione non sia eccessiva se questo non possa creare un ostacolo al successo nelle prove sì sì allora dunque parliamo del tempo del tempo spesso si sente dire non basta il tempo per farlo ecco io ho collaborato anche con i pretest cioè io sono andato nelle classi a dare i quesiti degli anni degli anni successivi poi sono stato lì a vedere cosa facevano e i ragazzi restituivano le prove prima del tempo prima della fine del tempo nelle scuole primarie li restituivano perché arrivavano lì col fascicolo compilato anche quelli piccini di seconda primaria e alle superiori si alzavano e se ne andavano e rimanevo lì a fare la guardia ai computer rimasti abbandonati quindi diciamo nei pretest risulta che che il tempo è quello è quello giusto e diciamo anche se un alunno non finisce le domande nel tempo previsto anche questo è una cosa che si misura è una valutazione va bene quindi è fatto apposta per essere svolto in quel tempo o in poco più ecco rientra nella misurazione statistica per quanto riguarda la difficoltà tante volte io ho sentito dire ah ma questo quesito l'ho portato a casa non l'ha saputo fare nemmeno mio figlio mio marito eccetera eccetera allora qui io faccio l'esempio per spiegare questa cosa che è una cosa anche questa di statistica faccio un esempio devo misurare ecco la Elena per esempio la Elena è alta 1,50 va bene tu dì sì sono alta 1,50 io misuro la Elena è alta 1,50 quindi mi faccio il metro poi giro negli uffici mondadori e vedo la sua collega Clara che è alta 1,90 giocava giocava a pallacanestro allora il mio metro che era alto lungo 1,50 io lo faccio lo devo per forza far diventare più lungo perché devo misurare l'altezza della Clara poi dopo torno all'ufficio della Elena e dico Elena guarda ho misurato la Clara allora la Elena mi guarda e dice ah quel metro lungo 2 metri come mi vuoi mortificare mi vuoi umiliare è troppo lungo per me questo metro e no ma questo metro è uno strumento per misurare tutti della Mondadori anche c'è uno sotto al magazzino che è alto 2,10 va bene allora io devo avere uno strumento che mi misura tutti allora per misurare tutti ho bisogno di alcuni quesiti pochi molto difficili anche per vedere la percentuale degli allievi che rispondono a quel quesito quindi non bisogna entrare in crisi se un quesito è più difficile degli altri oppure se la prova richiede più tempo ecco bisogna come dire fidarsi degli statistici ecco perché in qualche modo funziona il fascicolo così com'è funziona ecco allora pongo un paio di domande che mi sembrano collegate un po' a questo tema una persona chiede se appunto il numero di domande e il tempo a disposizione cambia ogni anno oppure rimangono sempre gli stessi questi due parametri ecco poi c'era anche un'altra persona che chiedeva se le prove quindi i propri quesiti vengono modificati ogni anno oppure alcune domande si ripetono sì allora dunque la prima domanda ecco allora il numero di domande è circa sempre quello a secondo del livello scolastico sono un po' meno per i livelli più bassi seconda primaria quinta primaria e sono un po' di più per i livelli più alti però il numero delle domande è quello poi può darsi che ci sia una domanda fatta da due item o da tre item ecco ci sono delle piccole piccole variazioni ecco e anche il tempo è circa sempre lo stesso per livello scolastico ovviamente i livelli più bassi hanno meno domande più tempo i livelli più alti hanno più domande meno tempo l'altra domanda non me la ricordo se i quesiti si ripetono possono ripetersi da un anno all'altro oppure se sono sempre diversi allora i fascicoli quelli della scuola primaria siccome sono stampati e pubblicati sono bruciati e quindi i quesiti ogni anno sono completamente nuovi quelli della scuola primaria i quesiti invece quelli CBT quindi della terza classe della scuola secondaria di primo grado e anche delle scuole secondarie di secondo grado questi possono essere riproposti perché appunto siccome c'è un database che ha il computer che ripropone e poi naturalmente però ce ne sono nuovi perché siccome vengono rilasciati abbiamo fatto degli esempi quelli rilasciati non possono essere più dati e quindi sono riproposti sono fabbricati ogni anno sono fabbricati nuovi quesiti nuovi quesiti ecco forse questo mi confermi è il motivo per cui anche per le prove CBT ormai non è più disponibile quel graffo che dicevi con il dettaglio dei quesiti esatto proprio per questo scusa Elena colgo l'occasione per dire mia figlia doveva superare l'esame di scuola guida allora si chiuse in casa con una mica e in due giorni risposero a tutti i quiz della scuola guida e poi dopo superarono l'esame superarono l'esame perché come dire c'era una specie di meccanicità ecco di mnemonicità ecco in questi quesiti che erano tutti a risposta multiple ed era un certo numero finito molto alto e loro si sono allenate come si sono allenate un paio di giorni e poi sono state promosse ecco con l'invalsi questa cosa non è possibile non è possibile non è possibile allenarsi allora con l'invalsi cosa si può fare si può fare una buona matematica cioè insegnare bene la matematica ecco prendete un quesito lo date a gruppi in classe con una dinamica di problem solving chiedete di discuterlo ecco e così fate una buona matematica poi vi troverete bene ecco velocemente pongo altre due domande anche se stiamo rubando qualche minuto ma mi sembrano interessanti alcune persone segnalano che nel grado 8 quindi nella classe terza della secondaria di primo grado c'è un po' il problema che le prove invalsi vengono somministrate in un momento dell'anno in cui ancora non sono stati svolti diciamo tutti gli argomenti che possono rientrare nelle prove invalsi e poi c'era un altro tema così dico già tutte le cose che sono emerse una docente che si chiedeva questo cioè visto che è molti anni che vengono somministrate le prove invalsi e che dovrebbero servire appunto a un miglioramento della scuola dell'istruzione si chiedeva se effettivamente questo miglioramento c'è stato quindi se somministrare le invalsi e analizzare i risultati ha portato a tuo avviso un dettaglio grazie questa domanda la seconda domanda è molto è molto colta molto interessante molto molto alta molto molto difficile diciamo molto difficile da da rispondere anche perché poi abbiamo avuto il covid in questi questi ultimi anni che ha peggiorato diciamo che la scuola ha molta inerzia c'è una sorta di inerzia lentamente 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 cambia le colleghe che parlavano delle radici quadrate ecco che ancora ci sono che nel 79 avevano detto di lasciare perdere ecco ci danno proprio la misura di questa inerzia della scuola la scuola va molto lentamente diciamo che però ecco noi abbiamo come l'ottimismo è un è un dovere è un dovere è un dovere ed è una virtù ecco a sostegno di questo ottimismo ci sono alcuni testi abbastanza intelligenti abbastanza simpatici che riescono a essere adottati e vedo che molti li adottano e questo ci fa ci fa sperare ecco cioè non solo i testi tradizionali vengono adottati quelli con tante espressioni ma vengono adottati anche dei nuovi testi che sono che sono un po' un po' più un po' più svelti però c'era una domanda a cui non ho risposto sul fatto che l'invalsi in terza media viene somministrato in un momento dell'anno in cui alcuni argomenti ancora spesso non sono stati allora voi prendete un fascicolo cartaceo degli ultimi che avete negli archivi di terza media andate a vedere andate a guardare bene osservate bene troverete sempre domande a cui si può rispondere anche a partire dalla seconda media gli esempi che io ho fatto gli esempi che io ho fatto ho fatto vedere un esempio per cui bisognava conoscere il teorema di Pitagora e un altro esempio per cui il doppio di un numero è maggiore o no del numero più uno ecco sono tutte prove a cui si può rispondere anche dal primo quadrimestre della terza media ovviamente sono costruite apposta ecco sono costruite apposta quindi direi che non non succede ecco a me non risulta sia mai successo che è stata chiesta una cosa strana tipo un'applicazione un'equazione di primo grado di tipo particolare che viene fatta a maggio ecco no ecco allora purtroppo il tempo a disposizione è terminato ci sarebbero tantissimi spunti ancora da cogliere ma davvero non possiamo andare oltre ma io sicuramente approfitto per ringraziare intanto il professor Brunelli per il suo intervento e anche tutti i docenti e le docenti che hanno partecipato ascoltando o anche intervenendo in chat perché il confronto è stato davvero molto acceso quindi il tema in valse è sempre un tema che scalda gli animi diciamo ecco allora prima di salutarvi vi ricordo sempre due note tecniche intanto che il prossimo webinar di questa rassegna sarà il 6 marzo sul tema dell'intelligenza artificiale particolare nella didattica della matematica e vi ricordo poi che le slide dell'intervento saranno scaricabili dal sito Mondador Education insieme all'attestato di partecipazione e la registrazione dell'evento rimane comunque disponibile sul canale YouTube di Mondador Education e allora ringrazio ancora il professor Brunelli e auguro a tutti e a tutte una buona serata e arrivederci al prossimo intervento di questa rassegna grazie Elena e a tutti i colleghi di Mondadori che ci hanno supportato a tutti i colleghi grazie a tutti i colleghi